Tra interventi già assegnati ed altri in fase di aggiudicazione definitiva, il Comune di Napoli fa il punto sul programma dei lavori che presto prenderanno il via nell'ambito del grande progetto per la riqualificazione dell'area portuale Napoli-Est. Dalle strade alle fognature, senza tralasciare interventi sulla sicurezza e l'arredo urbano, il piano si configura come un progetto infrastrutturale su larga scala, finanziato da fondi europei per un importo complessivo di circa 207 milioni di euro. Siccome è a breve, alcuni di questi progetti sono stati aggiudicati in via definitiva per circa 16 milioni di euro e altri per circa 20 milioni di euro, quelli che interessano molto la città, che serve tutto il tratto del cosiddetto asse costiero, da via Vespucci a via Ponte dei Francesi, è stato aggiudicato ancora in via provvisoria, ma a breve verrà fatta l'aggiudicazione definitiva, mi auguro. La somma di tutti questi interventi assomma circa 40 milioni di euro e vogliamo anche adesso mostrare, mentre alla stampa e mentre alla città, in che cosa consistono questi interventi che andiamo a fare. I primi interventi, concentrati nella zona orientale della città con l'obiettivo di ridurne il degrado e l'isolamento rispetto al centro, prevedono la riqualificazione urbanistica e ambientale di via Ferraris, via Breccia-Santerasmo, via Gianturco e via Nuova delle Brecce. La realizzazione del parco della Marinella, la rifunzionalizzazione del sistema fognario di Volla e San Giovanni, la riqualificazione urbanistica e ambientale di Corso San Giovanni e quella dell'asse costiero compreso tra via Vespucci e via Ponte dei Francesi. Sicuramente è molto importante l'intervento questo sull'asse costiero. L'intervento sull'asse costiero appunto da via Marina a via Ponte dei Francesi significa che ci sarà per entrare la pista per entrare ciclabile, si rifarà praticamente la strada, verranno rifatti per entrare i marci a piedi, si interverrà sulla riqualificazione per le fognature, il sistema di illuminazione, le pensiline. E poi sapete bene che quello è un tratto molto importante perché è anche un tratto di ingresso nella città per entrare dall'autostrada. Successivamente è previsto l'affidamento dei lavori anche per la riqualificazione di via Imparato, via De Roberto e via Miraglia con la realizzazione del sottopasso esistente. Toccherà poi a via Brin con il completamento del nodo di interscambio.